Sono 110 gli indagati nell'operazione denominata Johnny, la direzione distrettuale antimafia ha chiuso l'inchiesta. La maxi-operazione è stata portata a termine lo scorso 15 maggio e ha condotto al fermo di 68 persone, tra cui l'ex parroco di Isola Caporizzuto, Don Edoardo Scordio. Il Briz aveva portato anche al sequestro di oltre 70 milioni di euro di beni mobili e immobili. Nelle ultime ore tuttavia il GIP distrettuale di Catanzaro ha chiuso le indagini scrivendo nel registro degli indagati altri soggetti. Si arriva così al coinvolgimento complessivo di 110 persone. I provvedimenti, lo ricordiamo, condussero allo smantellamento della storica e potentissima cosca di Indrangheta, facente capo alla famiglia Arena, al centro di articolati traffici delittuosi nelle province di Catanzaro e Crotone. Dalle investigazioni, oltre alle tradizionali dinamiche criminali legate alle istorsioni capillarmente esercitate sul territorio, è emerso che la cosca controllava ai fini di lucro la gestione del centro di accoglienza per migranti di Isola Caporizzuto, coltivando ingenti interessi anche nelle attività legate al gioco e alle scommesse. Secondo gli inquirenti, la cosca avrebbe avuto per anni il controllo sul centro di accoglienza immigrati Cara di Isola Caporizzuto, riuscendo ad accaparrarsi gli appalti indetti dalla prefettura di Crotone per la fornitura di servizi di ristorazione con l'aiuto anche del governatore della Fraternità di Misericordia, Leonardo Sacco. Servizi affidati poi ad imprese costituite dagli Arena e da altre famiglie di Indrangheta per spartissi i fondi destinati all'accoglienza.